Il disagio e la dispersione scolastica a Napoli e provincia raggiungono valori preoccupanti. Un ragazzo su tre non completa il percorso della scuola dell'obbligo. Le ragioni di questo smarrimento sono intricate. Il comune di Napoli, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, svolgerà uno studio pilota sull'ottava municipalità Piscinola Marianella Chiaiano Scampia sul fenomeno delle frequenze saltuarie nella materna e nella primaria. Oggi noi presentiamo le politiche di indirizzo che il comune ha assunto nei confronti del contrasto di quello che io non chiamo dispersione scolastica ma disagio scolastico perché la dispersione è il fenomeno che si realizza dopo un disagio che si è manifestato sicuramente a monte. La scuola è al centro della società da due punti di vista, non soltanto perché è un diritto dei bambini ma anche perché è un servizio per le famiglie e le famiglie ci tengono in modo particolare, sono anche in grado di proteggerla dai tagli. La scuola non solo come luogo in cui si insegnano materie ma un luogo come punto di riferimento sociale in tutti i quartieri della nostra città, un progetto molto importante che conferma come per noi la scuola è una priorità. Ma altre iniziative sono in programma. Sportelli d'ascolto e di supporto psicologico per le famiglie sono già attivi nelle scuole comunali grazie a una convenzione con l'Università Federico II. È prevista poi la messa in rete delle scuole col sostegno di figure e scientifiche e il monitoraggio delle azioni del progetto EVAI curato dall'Associazione Maestri di Strada. Intendiamo produrre una svolta ponendo la scuola al centro dei processi di inclusione, ha sostenuto l'assessora all'educazione Anna Maria Palmieri, perché rifiutiamo l'idea che essa venga sostituita anziché sostenuta. La situazione è dura, siamo al 35% accertato dagli uffici e quindi significa che i dati che nel passato venivano occultati oggi sono palesi e quando la dispersione è il 35%, cioè oltre un terzo del totale, significa, questo invece lo dico io, significa che il sistema non ha degli sfridi, ha una disfunzione. Nella nostra rappresentazione il ragazzo che a scuola vive un disagio è ad esempio spesso molto aggressivo. Questa aggressività non a caso dipende da una impossibilità a gestire un ingorgo emozionale che impedisce di pensare. Per poter aiutare un ragazzo a pensare piuttosto che agire in maniera aggressiva bisogna che pensiamo a nostra volta in quanto adulti. Noi abbiamo una scuola che è fondata sull'ipotesi che esista lo studente, cioè la persona che è disponibile a studiare. Dobbiamo dire che lo studente non esiste, forse non è mai esistito ma oggi non esiste, esistono delle persone, queste persone vanno accolte a scuola integralmente. Io ho dei dubbi che ci sia qualcuno che governi la pubblica istruzione in Italia, ho l'impressione che vada avanti per conto suo con migliaia di nostromi e senza neppure un ufficiale di rotta.